I dati del bollettino epidemiologico della Puglia relativi alla giornata del 16 aprile riportano 24 nuovi casi nella provincia di Foggia di coronavirus con 4 decessi che fanno salire a 93 il numero complessivo delle vittime 780 quello dei contagiati sono 334 i pazienti guariti in Puglia a Lucera sono 4 i nuovi casi segnalati dal sindaco Tutolo dopo l'effettuazione del tampone ma da un primo esame non destano preoccupazioni resta ancora un ricoverato in rianimazione al policlinico di Foggia e altri in cura Tutolo ha anche annunciato che ci sarà un secondo elenco di famiglie che potranno ritirare i buoni spesa nelle prossime ore presso la ex biblioteca posta all'interno della sede del comune in corso Garibaldi novità a livello regionale il presidente della regione Emiliano informa che grazie alla sinergia con i medici di medicina generale dal 24 aprile saranno operative le unità speciali di continuità assistenziale team composti da medici che andranno a casa dei pazienti malati di covid 19 per fornire cure e assistenza limitando così le ospedalizzazioni mentre in varie rsa d'italia si sono generati focolai di coronavirus che hanno portato a centinaia di vittime buone notizie giungono invece dalla rsa dottor michele d'arco di lucera e della azienda pubblica di servizi alla persona maria de peppo serena e tito pellegrino di lucera dove non si registrano contagiati tra gli ospiti il dipendente amministrativo della struttura valeria di matto ha dichiarato non è semplicemente fortuna il nostro segreto è stato isolare completamente la struttura quando è scoppiato il primo caso di coronavirus in italia al momento siamo salvi senza alcun caso speriamo che continui così siamo comunque in attesa di essere sottoposti al tampone dato che siamo una struttura sensibile sia gli ospiti che noi operatori continuano a lucera le iniziative di solidarietà il comitato io sto con il lastaria consegnato mascherine ffp2 al dottor donato paoletti referente del reparto di dialisi e nefrologia presso l'ospedale lastaria di lucera dove i malati di reni che vengono curati non possono rimanere a casa la dialisi è infatti una procedura utilizzata per depurare il sangue dalle scorie prodotte dall'organismo quando i reni non sono più in grado di farlo ed è fondamentale sin da febbraio per garantire la salute dei pazienti sono state messe in atto procedure di igiene maggiori di quelle che già sono messe normalmente in pratica la proloco di lucera nella qualità del presidente Sergio Alfieri con tutto il direttivo composto da Apollo Franco Nassisi Gianfranco Simonelli Massimo di Virgilio Chiara Schiraldi Rosanna Bianco Vincenzo Danese Ciro Cicarelli Stefano e De Biase Giuseppe hanno deciso di devolvere in questo particolare momento di difficoltà di molti cittadini di lucera alla Caritas beni di prima necessità per 1000 euro la spesa fatta è stata consegnata direttamente presso la sede della Caritas torna il sereno tra i caseifici del barese artigiana deliziosa gioiella e palazzo e gli allevatori dopo le polemiche dei giorni scorsi l'avvertenza è stata archiviata una volta raggiunto l'accordo sul prezzo all'origine del latte bovino i trasformatori hanno accettato di incontrare in videoconferenza cia uc fedagri pesca lega cop e associazione generale cooperative italiane puglia insieme hanno preso atto del momento di crisi dell'intero comparto lattiero caseario a causa dell'emergenza covid 19 e hanno convenuto sull'esigenza di scongiurare ulteriori inutili tensioni in un clima già appesantito da tutte le limitazioni e prescrizioni disposte dagli numerevoli provvedimenti nazionali e regionali auspichiamo che la piattaforma stilata dal mondo agricolo e dalle aziende di trasformazione trovi la più ampia condivisione possibile affermato a nome di tutti i rappresentanti agricoli che hanno partecipato alla concertazione vito la terza dell'ucipuglia per gli interessi di un comparto che se non tutelato rischia di naufragare anche l'inizio del terzo anno di attività è stato molto positivo per i saraceni di lucera che sino allo stop forzato per il covid 19 hanno partecipato con ottimi risultati a 11 gare in puglia campania lazio abruzzo e marche l'esordio è venuto ad aquino frosinone con il primo trofeo dell'epifania dove sono andati subito sul podio i nuovi iscritti leonardo serena e umberto barbati poi gli specialisti di trail giulio corbino e la new entry federico maggio hanno ben figurato a colle san marco con il winter trail e a trasacco l'aquila con il nono winter trail monte labrone un altro atleta di trail e nuovo arrivato michele casciano a barletta è addirittura salito sul podio con il secondo posto di categoria non è mancata la maratona con il bravo luigi pretorino che a fano si è fatto onore alla quarta super marathon alla spettacolare seconda toro ten di barletta si sono divertiti il presidente lino vetere il vice gino mastro luca mattia cappiello e teresa cutone ottimo secondo posto di società e tanti podi per i saraceni di lucera al primo cross day la bella di cerignola buoni risultati anche in campania ben nove i saraceni poi a barletta hanno partecipato alla famosa barletta half marathon per finire la straordinaria esperienza vissuta a napoli dove 10 saraceni di lucera insieme a 7.000 atleti da tutto il mondo hanno tagliato il traguardo della napoli city half marathon quindi un abbio di stagione alla grande per i saraceni di lucera che stanno per superare i 50 iscritti e aspettano la fine dell'emergenza per riprendere tutte le attività di lucera